inaudita fu la reazione più che altro si svegliò di colpo sotto le luci invadenti di una lampada al neon inchiodata al soffitto di un'ambulanza non sapeva ancora che non era stato lui a svegliarsi o almeno non esattamente si trattava di un altro quello che avrebbe definito lo spettro ascoltò senza rispondere le domande che gli porgeva un'infermiera da sopra la barella diceva a frasi come ti senti bene hai bevuto un dolore vago lontano gli massaggiava tutto il corpo nella mandibola che sentiva rotta nel naso rotto nelle costole rotte e lungo i graffi e i dividi sul viso un'immagine sfocata gli giungeva al pensiero in modo intermittente come uno scenario sgranato che tende a svanire lo avevano circondato senza che lui avesse modo di difendersi lo avevano lasciato a terra quasi esanime e se ne erano andati via lui e il suo amico claudio avevano parcheggiato l'auto verso le 10 di sera nel parcheggio del ristorante claudio era sceso per primo aveva urlato qualcosa come lasciatemi lasciatelo aveva detto lui precipitandosi fuori dell'abitacolo lo avevano circondato in sette forse otto avevano lasciato andare claudio e si erano concentrati su di lui uno lo aveva ferrato dal bavero ed estratto qualcosa di luccicante dalla tasca un altro lo aveva colpito con un calcio e poi fu un susseguirsi di rumori sordi sussurrò verso il soffitto dell'ambulanza prima di cadere a terra aveva incrociato il suo sguardo con quello di claudio se ne stava fermo in un punto sotto il lampione del ristorante immobile gli occhi sgranati e l'espressione vuota lo guardava terrorizzato preso in una specie di trance perché non hai fatto nulla pensò un attimo prima di perdere i sensi poi venne l'ambulanza cos'è successo disse un uomo con i camice navarella procedeva nella corsia di un ospedale adesso spinta da due infermieri lo lasciarono da solo in una stanza piccola e bianca i suoi familiari sarebbero entrati ansanti dalla porta sul fondo la madre si sarebbe messa a piangere nel vedergli le ferite in volto e il fratello avrebbe stretto i pugni ripetendo a denti stretti bastardi bastardi l'altro fratello avrebbe cercato di minimizzare dicendo che poteva andare peggio marta sua sorella rimase fuori ad aspettare sto bene fu la prima frase che pronunciò qualche ora dopo la stanza era vuota adesso i familiari erano usciti a fumare e non si sentiva altro se non un vociare dal corridoio sto bene ripeté con una specie di sorriso e un tono di voce che gli parve fuori di sé sto bene continuò si rese conto che i muscoli del viso erano contratti in una specie di ghigno e che gli occhi ben aperti guardavano ora il soffitto bianco le parole che pronunciava si susseguivano in un qualche modo sua dente trisciante mentre sibilava una frase come mai stato meglio inviò un fax a lavoro allegando il referto e la prognosi ai carabinieri raccontò che non ricordava nulla e in un certo senso era vero volti vaghi scrissero giovani ben curati tranquillizzò la madre al telefono che lo chiamava per chiedergli come stesse attaccò il telefono e si chiuse in bagno nonostante abitasse da solo si guardò riflesso scoppiò a ridere verso l'immagine di sé stesso e sibilò qualcosa come certo che stiamo bene dieci giorni dopo si svegliò di notte in preda all'ansia non era uscito molto in quei giorni ogni volta che aveva provato a farlo un brivido gli aveva percorso la schiena lasciandolo inchiodato alla porta di casa sono giorni di vacanza si era detto con una felicità finta passandosi la mano sulla guancia per controllare il dolore lo spettro aveva lavorato per lui nel frattempo gli aveva ripetuto di stare tranquillo e che al resto avrebbe pensato lui che non c'era poi granché da preoccuparsi non è il caso di parlare con gli amici gli aveva assicurato con decisione bloccandogli con forza la mano quelle poche volte che aveva cercato il telefono cellulare quella notte si rivestì rapido e uscì si mosse agile nel buio della città e si intrufolò in macchina guidava rapido lo spettro strecciando come un lampo nelle vie semideserte del centro arrivarono in un quartiere che aveva frequentato qualche anno prima da studente ricordava i frichettoni a passeggio e gli spacciatori nascosti sotto qualche albero dentro ai vicoletti non si fece scrupoli a contrattare a comprare non si dè la pensiero di allungare una banconota e prendersi in cambio una piccola pallina bianca e lucente a infilarsela in tasca continuare a girare per il quartiere e poi dirigersi alla provinciale con i tram prendere il notturno scendere aspettarne un altro e sempre con gli occhi spalancati attenti spettro fosforescente del cazzo avrebbe pensato in seguito gli piacevano le situazioni rischiose certe risse sfiorate nei bar e gli piaceva essere guardato comiti vecchi assose bulli ubriachi sbandati ne aveva bisogno come sia fame bastava vederseli di fronte e allora li fissava sarcastico come a dire vediamo adesso che succede attendere una mossa dell'altro e ripetersi con un ghigno sono un fantasma non immaginate nemmeno quanto io sia più veloce di tutti voi non ci fece scrupolo di mettere la pallina sul tavolo del salotto una volta rientrato a casa uscirono insieme anche la notte successiva e quella dopo ancora facevano sempre le stesse cose e negli stessi posti di giorno si ripeteva che lui e lo spettro convivevano e tanto gli bastava per sentirsi meno solo si ritrovarono a spogliare la pallina bianca dei singoli strati di cellofan che la ricoprivano e a spargere la polverina al suo interno sul legno lucido del tavolino come si fa? chiedeva imbarazzato mentre le prime luci dell'alba filtravano dalle serrande disegnando strisce opache nel salotto con il naso rispendeva lo spettro sprezzante di giorno l'altro non si faceva sentire cosa che non gli impediva di mantenere lo stesso sguardo spiritato le movenze agili e furtive e un ghigno ambiguo sul volto finiti i giorni di prognosi tornò al lavoro e riprese a vedere gli amici di sempre l'incontrava per un aperitivo o nella piazza in cui erano cresciuti da piccoli scherzava più del solito sembrava sempre divertirsi sei diverso gli disse qualcuno con una punta di sorpresa era perché rideva di più e gli piaceva fare e dire cose che prima non faceva o diceva non stava mai fermo e versava da bere rideva con gusto e rideva sempre aveva voglia di uscire dopo cena ma se gli amici accettavano cambiava idea velocemente per accampare una scusa uscirò con lo spettro ghignava segretamente continuarono a frequentare lo stesso quartiere di notte gli stessi vicoli e a contrattare tornavano a casa all'alba e si drogavano insieme finché non fu più chiaro a nessuno dei due chi fosse l'uno e chi fosse l'altro chi fosse lo spettro e cosa fosse lo spettro senza accorso se ne divenne inaffidabile al lavoro lo richiamarono per continui ritardi ed era inutile dargli un compito si affrettava a dire sì sì lo faccio per poi trovare una scusa e sottrarsi nascondersi in qualche altro dell'ufficio e lì scoppiare a ridere di gusto con lo spettro inventare dialoghi discorsi articolati di una vita che immaginava da condividere insieme a lui andremo a londra diceva andremo in olanda oh no 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 voglio portarti in campagna a correre in una radura dove trotteremo sui cavalli e poi ci lancieremo da un ponte attaccati ad una fune se ne restavano per decine di minuti chiusi nel bagno dell'ufficio a chiedersi quanta polvere adesso e quanta la sera tu controlla che non entri nessuno andarono a un concerto e incrociò lo sguardo di claudio tra la folla si guardarono per un attimo prima che lo spettro lo tirasse via da una manica per portarlo sotto il palco a confondersi con gli spettatori il giorno dopo ricevette un sms da claudio con scritto mi dispiace per quanto è successo un altro con scritto non evitarmi per favore e infine non devi vergognarti di ciò che è successo gli amici non scappano pensò senza degnarlo di risposta infastidito da quella parte di ragione che in fondo claudio aveva si vergognava di quanto era accaduto la sera dell'aggressione si sentiva vagamente in colpa si vergognava di quanto fosse terrorizzato all'idea di uscire da solo di notte e si serviva dello spettro per trovare il coraggio l'unica forma con cui riusciva a condividere la sua angoscia era quella sottile di un fantasma ironico passarono i giorni le settimane tutte vissute in compagnia dello spettro smise di andare al lavoro e di vedere gli amici i parenti che lo cercavano loro non possono aiutarti gli ripeteva lo spettro dandogli un buffetto in viso venne a sapere da un sms di claudio che la polizia era entrata in possesso di un video di quella sera registrato dalla videocamera del ristorante non rispondi nemmeno alla questura insisteva non mi interessa pensava lui perché non hai fatto nulla scrisse su un muro della sua abitazione la frase devo trovare il modo di sparire lo spettro la vide e si sganasciò dalle risate ci sono qua io insistete con il suo sguardo ammiccante e subdolo fino alla sera in cui si rifiutò per la prima volta di uscire con lui rimase a fissarne il contorno stagliato contro la porta d'ingresso l'aria sbrilluccicante i vestiti in gingheri per la nottata da passare assieme tu disse fiaccato dalla noia e dalla solitudine di quei giorni dalla rabbia per il lavoro che aveva perso e dal tremore che gli scuoteva le mani nell'astinenza vai pure da solo gli disse prima di mettersi a letto e lo stesso fece altre volte fino a quando lo spettro si stufò di chiedergli compagnia usciva da solo adesso lo lasciava nel salotto a rimuginare e ad aspettare che la porta di casa si chiudesse con un tofu in breve tempo il tavolo si riempì di palline pronte per l'uso le ferite scomparvero del tutto e infine i dolori quel fastidio costante come una fitta alla mandibola una sera uscì da solo senza sapere cosa fare si fermò in un locale che conosceva e decise di restare la musica giungeva forte dalla sala al piano inferiore dove si stava esibendo la folla riconobbe il profilo di sua sorella marta che gli andava incontro come se non lo vedesse da anni che fine hai fatto gli urlò nell'orecchio abbracciandolo con forza rimase rigido senza fare nulla né spiccicare parola e poi non sapeva davvero come se la stesse spassando non ricordava quasi nulla delle sue giornate disordinate non era in grado di dire come si sentisse né se dovesse farlo con la voce sua dente dello spettro oppure con la sua che ricordava tremula e vagamente effeminata beh si limitò a far fugliare prima di sgusciare via passò altri giorni chiuso in casa con la sensazione di essere spiato lui da una parte e lo spettro dall'altra finché seppe che se n'era andato per sempre da quella frase scritta sul muro appena sotto la sua io non ti ho mai chiesto di sparire diceva e scoppiò a piangere o almeno gli sese qualche lacrima tutto quello che stava succedendo non era colpa di nessuno si disse una mattina uscì prima del solito diretto all'edicola dei giornali era in arretrato di qualche mese sull'affitto e i soldi stavano per finirgli sul conto comprò un giornale di annunci di lavoro e se lo misce sotto braccio prese a camminare liberamente per le vie della città godendosi il sole e facendosi portare si congratulò segretamente dei miglioramenti fisici e del fatto che certi sintomi erano passati quei tremori disse guardandosi le mani sulle braccia allungate e stese d'altra parte sentiva qualcosa come un vuoto o voragine che si apriva spalancandosi al suo interno gli mancavano le battute taglienti dello spettro quel suo modo sfrontato di esporsi a tutto e di farsi vedere rabbrividì si ricongiunse a se stesso in un'andatura fiacca e ingobbita quella di sempre ben lontana dal petto in fuori dell'altro da quel suo modo di fissare tutti negli occhi e penetrare nelle pupille frugare tra le retine e gli iridi e rovistare qualunque bagliore di violenza potesse giustificare il suo stare sempre in allerta camminò per ore intere nelle strade affollate della città facendosi cullare come in sogno dei rumori del traffico e della fretta degli impiegati verso sera sentì le gambe stanche e una tristezza placida che gli premeva il ventre attraversò il parco pubblico alla sua destra con le mani in tasca solo come mai si era sentito e guardandosi continuamente attorno quel rumore di foglie quel ramo spezzato d'improvviso è una risata tra gli alberi era davvero pronto a sopportare tutto questo da solo l'edificio della questura si ergeva a poche centinaia di metri dritto davanti all'uscita del parco esitò per un attimo senza sapere che fare lo raggiunse la voce di claudio che passava in quel momento in motorino e gli inchiodò quasi davanti che ci fai qui disse con un sorriso e tu rispose lui facendo spallucce aspettò che legasse il motorino e si diressero insieme verso la scalinata centrale il gabbiotto disse il suo nome e gli chiesero d'aspettare gli venne incontro la commissaria dicendo che la questione era chiusa da tempo che non c'era stato nulla da fare per trovare gli aggressori te l'avevo detto disse claudio allargando le braccia insistette con la donna per farsi portare al piano superiore quello con il videoregistratore e i nastri e affinché la commissaria secondasse quella che negli ultimi giorni era diventata una sua curiosità morbosa attese che infilasse la cassetta nel registratore e indicasse lo schermo dove seguire le immagini si trattava solo di frammenti numericamente tre nel primo vide il suo corpo immobile steso sull'asfalto nel buio di quella sera nell'altro c'erano dei ragazzi incappucciati che lo attorniavano spingendolo e colpendono a calci e a pugni fino a lasciarlo agonizzante sulla strada poi gli si vedeva scappare di spalle attraverso il parcheggio in terzo frammento quello che osservò con più attenzione mostrava l'arrivo dei soccorsi il suo corpo fu lasciato in terra mentre i paramedici ne sollevavano un altro i denti qual suo e lo disponevano con cura sulla barella che avevano appena aperto eccolo eccolo si ritrovò a urlare eccitato nel momento in cui sollevavano la barella per infilarla all'interno dell'ambulanza eccolo non lo vedete disse tirando il brazzo di claudio rivolgendosi implorante alla commissaria che lo guardava senza capire non lo vedete? come fate a non vederlo? piagnucolò fissando ora Claudio ora la donna che non sapevano cosa rispondergli il suo corpo era ancora lì steso sul monitor in un punto del marciapiede un rivolo di sangue macchiava di scuro un punto sull'immagine mentre la forma dello spettro si sollevava agile nonostante i colpi subiti e si sedeva in un punto della barella sorridente e radiosa in quel suo ghigno di sfida aveva gli occhi spalancati bianchi nel buio della sera lo fissava dal monitor come se al mondo non esistesse altro che lui sembrava dirgli stai tranquillo amico fragile penso a tutto io ciao 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 ciao